... dei territori interessati in aula e all'esterno sit-in di associazioni e movimenti, l'opposizione ha censurato l'incapacità del ministro Pinotti nel chiedere almeno scusa, sollecitando nelle dimissioni, ma non solo. Il governo regionale prende atto del fatto che questo non è un governo amico, che non è possibile pensare di trovare strade per fare un accordo, che bisogna tenere altissima l'asticia del confronto. Lettere educate, gentili, interlocutorie non servono assolutamente a niente.